Un'udienza cordiale tenutasi nel 25esimo anniversario del ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Romania, avvenuto il 15 maggio 1990. Papa Francesco ha ricevuto il Capo di Stato e si è soffermato sui rapporti bilaterali caratterizzati da una proficua collaborazione, nonché sulle relazioni tra le autorità statali e le comunità cattoliche locali e sulla buona convivenza tra minoranze. Nel proseguio della conversazione, riferito alla Sala Stampa Vaticana, sono stati affrontati temi che interessano diverse regioni del mondo.